Ciao ragazzi! Te ragazzi e io ragazzi, appunto! Benvenuti in questo speciale 100 iscritti e ovviamente noi siamo io, sono contentissima e ho un piccolo 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 traguardo ma per me è molto importante Oggi siamo qua a proporvi un boyfriend tag e passiamo alle domande Tu sei pronto? Sì! Attento, prima domanda Dove ci siamo conosciuti? Allora, sinceramente ci siamo conosciuti alle medie Io ero in prima media e lei era in seconda media e lei mi guardava dall'alto perché Ti sembra io ero? No, lei era un piano superiore al mio e ogni volta a ricreazione mi ricordo e mi ha sempre raccontato che mi guardava, che mi adorava, mi voleva Dove siamo andati al primo appuntamento? Vabbè, il primo appuntamento sinceramente è stato a casa tua Sì, nel giardinetto Sì, la prima volta che ci siamo rivissi è stata a casa sua abbiamo fatto una chiacchierata tra amici e riso e scherzato Perché era da tipo... Riso si dice? Abbiamo riso Sì, perché era da 4 anni Però devi spiegare Quando io ero in terza media e lui era in seconda media ci siamo messi insieme e poi ci siamo lasciati dopo qualche mese e quando ci siamo... No, questo ve lo devo raccontare Quando ci siamo riscritti dopo qualche anno lui mi disse se non era successo niente io con te ci stavo anche 6-7 mesi io perché 8 non ti andavano bene Vabbè Vabbè, ero piccolo quanti anni avevamo? 13 13 anni 13 anni Sì, abbiamo iniziato a frequentarci anche con il ballo che avevamo iniziato a ballare insieme quindi piano piano questa cosa è cresciuta e siamo qua adesso Nella mia rouloscia Qual è stata la sua prima impressione di me? Sempre una ragazza solare, divertente anche abbastanza stupida come si può vedere No, vabbè la prima impressione reale è che lei era identica a me in tutti i suoi minimi particolari è adesso, tuttora, identica a me il suo carattere, il modo di fare la sua dolcezza, la gentilezza la sua stupidità è uguale alla mia quindi questo la prima impressione è che lei fosse la copia identica a me e quindi siccome lui si adorava troppo voleva qualcuno che le ricordasse comunque secondo me non è vero chi dice che gli opposti si attraggono perché sinceramente se io avessi una persona accanto a me che fosse l'opposto penso che gli direi ciao dopo 5 minuti perché cioè no è bello magari avere le stesse idee e mettersi d'accordo su un qualcosa che pensiamo tutte e due penso sia più semplice è più veloce molto più semplificativo non ti complichi la vita appunto prossima domanda quando hai incontrato la mia famiglia? allora ho conosciuto la sua famiglia il giorno in cui eravamo andati a mangiare in un pub in centro a Prato dove abitiamo noi e diciamo siamo rimasti sconvolti da un messaggio che è arrivato alla Giulia dopo che lei ha chiamato i suoi genitori per sapere cosa stavano facendo è un messaggio con scritto sto preparando la pasta con lo scoglio che io adoro ecco più chiuso l'Oriota perché la pasta con lo scoglio e invita anche Andrea che in quel momento io e lei ci siamo guardati stupiti perché non ci credevamo e perché c'è una piccola piccola niente di che però c'è una piccola storia dietro e quindi non ci credevamo perché non ci credevamo eravamo contentissimi sì e anche i miei genitori è stata molto imbarazzante la prima volta perché ero diciamo ansioso ero timido questo era Andrea a tavola Andrea vuoi te l'altro scoglio? no no grazie quando è la tele dice Andrea mi ha troppato sì grazie vabbè ma dopo due anni si può capire è una cosa normale ho qualche strana ossessione no figurati no non proprio punte vabbè elencole che domande elencole allora elencole elencole allora ossessione per il rosa il fucsia o come lo chiama lei qualsiasi cosa fucsia leopardata cioè apri il suo armadio vedi un reparto leopardo e un reparto fucsia cioè ossessione scusami apri il mio armadio entra in camera certo in camera tante cose troppe troppe io non riesco nemmeno non mi ricordo adesso ma veramente tante 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 sei da quanto tempo stiamo insieme? un anno e nove mesi tra ecco allora voi non l'avete visto voi non l'avete visto ma io diciamo che in queste settimane che siamo venuti al mare ho dimenticato il mio carissimo orologio vabbè oggi è il 4 4 agosto quindi tra ben 14 giorni ovvero 2 settimane facciamo un anno e 9 mesi qual è stata la prima cosa che hai notato di me? allora prima cosa che ho notato appena ci siamo rivisti sicuramente gli occhi gli occhi che ha l'ho sempre detto ha degli occhi che a me fanno impazzire perché sono giganti ha degli occhi molto grandi e dolci poi vabbè la sua simpatia il suo modo di porsi con le persone qual è il mio ristorante preferito? vabbè siamo uguali quindi il mio è il suo il mio il mio è il suo bravo quindi sicuramente 100% carne italiana montana io dicevo no scherzo ragazzi a parte le cavolate che spariamo sicuramente il ristorante giapponese sicuro sushi is life our life su quali argomenti litighiamo di più? buonanotte vabbè allora sicuramente il primo argomento in assoluto è la gelosia però c'è da dire che non è come quei ragazzi morbosi che non ti fanno vivere perché a quest'ora non avrei fatto un video speciale 100 iscritti boyfriend tag ma ero single molto single no vabbè sono felice di questo perché non è una sanguisuga e viviamo molto scialla e a volte c'è queste preoccupazioni queste paure ma niente di che sono molto happy di questo allora chi porta i pantaloni nella nostra relazione? io odio i jeans guarda io c'è il costume no vabbè a parte gli scherzi porti i pantaloni e nessuno dei due cioè siamo tutti mutande scherzi nel senso nessuno dei due comanda sull'altro diciamo condividiamo sempre le stesse idee se magari uno non ha voglia di fare una cosa allora troviamo un'altra soluzione più delle volte forse sono io che dico più lei magari magari è un po' più lei che ordina e comanda oh così sembra un mostro si sei un mostro se sto guardando la televisione che cosa sto guardando? la televisione scusa che domande cioè nel senso programmi preferiti o così sicuramente allora lei non guarda non è una tipa che guarda molto la televisione ama gli stessi film che amo io la maggior parte tra i livelli di fantascienza che genere di cose guarda la televisione io i cartoni oh mio dio dateli i cartoni e lui sono vabbè dai sono ancora un bambino comunque quando guardo la televisione guarda dire e fare e baciare non era quello lì vabbè real time in generale quello con pod adoro adoro real time cosa ordino da bere quando mangio fuori coca zero assolutamente spiega perché zero zero perché è zero calorie e zero zuccheri quindi ole viva la dieta che numero ho di scarpe? è molto complicata la cosa 36 di scarpe 37 36 il numero di scarpe normali e 37 di tacco o è il contrario? oh mio dio 36 il tacco 37 scarpa normale 38 le scarpe da ginnastia e più delle volte scusi eh se l'è complicata io ho un numero solo per tutto però va bene che talento ho? no vabbè talento in generale make up tutta cosa riguarda l'estetica è veramente molto molto portata per questa materia infatti per cui lei sta studiando è anche diciamo molto portata poi i talenti in generale il ballo quali sono i miei seriali preferiti? miel pops bzz 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 a parte i miel pops ma che non l'ho mai mangiati i miel pops? ma no ma che dici? cioè mai mangiati i cornflakes 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 sì ma con con il latte con scaglie di cioccolato qual è la mia musica preferita? latina musica boh dance nel senso dove puoi ballare dove balli latino americano è una bestia ci si diverte la bestia di che colore sono i miei occhi? sono marrone cacca vuoi dire marrone nutella? grazie marrone nutella mentre i miei sono verdi gialli sembrano marroni? no sono sul giallo sono sul giallo verde io invece marrone lei si vede proprio marrone marrone invece io sono più chiaro chi sono i miei migliori amici? la sua migliore amica Marta che è da quando sono piccole e si amoscano e il suo miglior amico Daniel che è anche un mio carissimo amico se potessi vivere ovunque dove andrei? se potessi vivere ovunque sicuramente l'America perché è sempre stato il nostro sogno il suo sogno quindi prima o poi riusciremo a verare questo sogno se ci sposeremo un giorno come viaggio di nozze sicuramente sarà quello allora le domande sono finite e noi ci siamo divertiti a girare questo speciale 100 iscritti speciale 100 iscritti con me non vedo l'ora di vedere il canale che che cresce che cresce l'importante è che vi piace che vi divertite e che vi trasmettiamo quello che proviamo noi noi vi salutiamo vi mandiamo un grosso pace e ripeto spero che questo video vi piaccia mettete tanti like iscrivetevi al canale condividete su facebook instagram e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao